Il giornalismo sia uno strumento di costruzione, un fattore di bene comune e di riconciliazione che sappia respingere la tentazione di fomentare lo scontro, rinunciando ad un linguaggio che soffia sul fuoco delle divisioni e che favorisca la cultura dell'incontro. Con queste parole, Papa Francesco si è rivolto ai rappresentanti dell'Ordine Nazionale dei giornalisti italiani ricevuti in udienza nella Sala Clementina in Vaticano. Un mestiere che per vocazione deve avere l'amore per la verità e che al tempo stesso deve rispettare la dignità delle persone, perché anche le parole possono uccidere una persona. Certo, la critica è legittima e dirò di più, necessaria, così come la denuncia del male, ma questo deve essere sempre fatto rispettando l'altro, la sua vita, i suoi affetti. Il giornalismo non può diventare un'arma di distruzione di persone e addirittura di popoli. Ne deve alimentare la paura davanti ai cambiamenti o fenomeni come le migrazioni forzate dalla guerra o dalla fame. Grazie. Grazie.